Continuiamo Ecco fatto Allora Gigi Vai Cosa abbiamo sbloccato Ok due pedane ma lì Ci sono dei fagioli Vieni qua dai Ecco fatto Ecco qua Voi non avete idea A parte che avevo veramente Tanta voglia di portarlo Da forse anni Questo gioco sul canale ma non 49 non ho mai avuto Il pretesto E il modo giusto di portarlo Finalmente che l'ho portato sono Veramente soddisfatto Va bene speravo C'erano 2-5 di file ci ho sperato Però anche un 3 va bene Non avete idea da quanti anni Volevo portarlo questo gioco Ma sono felice di averlo fatto Adesso perché Credo di averlo Giocato veramente in maniera Più che ottima E anche Luigi è salito di livello Credo di averlo giocato in maniera Più che ottimale Veramente 5 Bravo Gigi Il prossimo è la difesa Sappilo Chi c'è ora? Ah oddio Avrei Dovuto prepararmi subito Mi fa ridere che rompiamo le lastre di pietra Aia Ecco fatto Mi ha fatto molto ridere la cosa Allora Vai Mario Di nuovo Di nuovo minigioco separati Di nuovo zona separati In tutto il castello di Bowser Stiamo rivivendo Bene o male Tutti Le zone Che abbiamo fatto In single Cioè in single player Nel gioco base Stiamo rifacendo Questo E' la parte del castello di Jojora Dove avevamo Questo blocco qua Che ci fa passare Saltando in due Si è aperta la strada Ok Allora Dove dobbiamo proseguire? In teoria Dobbiamo andare Da tutte e due le parti Quindi andiamo prima Con Mini Mario Da questa parte Ringrandiscimi Luigi Vediamo Ovviamente Non c'è mai una strada Senza una fine Che non nasconda Un blocco segreto Passiamo di qua Ecco fatto E Ultima scalata C'è qualcosa qua sotto? No Allora Di chi è il turno ora? O abbiamo finito i Bowserotti? Sai che non mi ricordo? Stanza di? Ah Larry Larry dovrebbe essere l'ultimo Non li ho contati Sono sette I Bowserotti Cosa devo fare? Ah Madonna Pensavo fosse di metallo Per un attimo ho pensato Ci fosse un bug strano Ne ho Ho dato per scontato Che fosse metallo Io questo Perché? Perché? Perché questa sottotrama Del 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 tennis Scusami Larry Bo Hammer Let's go Hammer Let's go Dai vieni Luigi Andiamo a menare Larry C'è qualche Cosa segreto? A proposito di cose segreti 13 4 11 18 Non ci possiamo fare nulla Ciao Larry Acchi Acchi Si 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 La bomba si raggiunge Lo zero Si 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 Allora 250 Non male Allora Espulsione Bravo Aspetta Preso 182 Di Contraattacco Ma dai Allora Volevo farlo perfetto Il salto espulsione E' uscito una merda Però Ora in teoria Dovrebbe essere L'ultima Zona di difesa Questa Allora Volevo farlo perfetto Allora